Buona giornata e ben ritornati nei sui di Teleradio Pace, questa è la seconda edizione del Tg Rassegna Stampa di oggi 27 di aprile giovedì, siamo quindi nella seconda metà della settimana, diciamo ultima settimana del quarto mese del 2023, settimana un po' particolare perché è iniziata con un pontone, quindi siamo arrivati a ieri, mercoledì, confondendolo con lunedì perché chiaramente si rinizia a lavorare, normalmente lo diciamo, per le tante persone che però hanno continuato a lavorare, anzi hanno lavorato ancora di più durante il ponte del 25 aprile, proprio per il numeroso arrivo di turisti come è stato poi scritto sui giornali di ieri, abbiamo visto anche i nostri servizi, le nostre immagini. Allora, 27 di aprile, questo per dirvi che siamo, diciamo, così mentalmente all'inizio della settimana, invece siamo già praticamente quasi alla fine, siamo appunto alla soglia di un altro weekend piuttosto lungo perché avremo il fine settimana di maggio e in questo 27 di aprile la chiesa ricorda e festeggia Santa Zita Vergine, appunto, Zita è equivalente a città, voleva dire ragazza, è diminutivo appunto, e quindi Zita è una ragazza, Santa Zita è molto, appunto, molto ricordata da diverse letterature, noi la troviamo, beh, soprattutto a Genova con la grande chiesa del centro di Corso Buenos Aires, ma oggi è anche l'anniversario dell'apparizione della Madonna di Montserrat e poi ancora San Simeone di Gerusalemme, Vescovo e Martiri, Beato Giacomo di Bitetto, Beata Osanna di Cattaro, San Pietro Armengol, San Giovanni di Catari, San Liberale, San Lorenzo Nguyen van Wong, Sacerdote e Martire, Beata Maria Antonia Bandres e San Magaldo, Beato Nicola Roland e San Pollione di Cibali, Martire, San Teodoro e oggi è anche la dedicazione di Santa Maria del Campo. Auguri, auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il loro santo patrono, che ricordano una lieta ricorrenza, un anniversario in questo 27 di aprile, che oggi compiono gli anni, quindi buon compleanno a tutti voi e buona giornata a tutti coloro che, appunto, sono sintonizzati sulle nostre frequenze, comunque sono collegati con noi in varie maniere, naturalmente, perché siamo ormai multimediali e siamo ovunque presenti con le nostre trasmissioni. Paolo Solari dalla regia ci sta mostrando questo inizio di giornata dalla postazione della Collina delle Grazie, beh, vedete che è una giornata davvero, davvero molto bella, guardate il mare, come è calmo e tranquillo, perché siamo in una fase di tempo assolutamente mite, anche di clima assolutamente mite, di tempo assolutamente stabile, pensate che in questo momento c'è una formazione promontoria, appunto, di anticicloni, di anticiclone sul Mediterraneo occidentale, che essendo di origine subtropicale, sta convogliando aria caldissima, anche su una parte dell'Europa, quella più occidentale, quindi la Spagna. Pensate che in Spagna, in alcune località, che sono comunque già calde di loro, sono attesi addirittura in queste ore, in questa giornata, i 40 gradi, cosa che in Italia non avverrà, lo diciamo subito, questo promontore anticiclonico non raggiungerà l'Italia, perché l'Italia invece si trova su un altro fronte, qua arriva dell'aria più fresca e quindi anche un po' più instabile dal nord, aria che continua ad affluire, adesso in maniera sicuramente meno importante, ma poi nelle prossime giornate, in particolare da sabato, domenica, arriverà quest'aria più fredda in quota e porterà anche a formazioni di nuvolosità e forse anche a precipitazioni, ma di questo naturalmente parleremo soltanto nei prossimi giorni. Per la giornata di oggi, che si sta caratterizzando per questo clima meramente bellissimo, perché Paolo Solari ci sta portando in giro per la Liguria, da Ponente a Levante, vedete che abbiamo delle giornate, una giornata delle condizioni meteorologiche davvero ideali, sembra proprio una giornata d'estate, ma forse i colori sono ancora migliori di quelli dell'estate, che è un po' più sfumata, l'estate quando viene il caldo, sono colori già più sfumati, qua invece abbiamo davvero dell'aria limpidissima, dei colori bellissimi, delle panoramiche meravigliose e anche le temperature notturne, insomma, si sono contraddistinte per avere avuto dei cali molto importanti rispetto alle massime di ieri. Quindi abbiamo avuto temperature decisamente negative o comunque poco sotto lo zero, sulla parte bassa della Val d'Avito, in particolare a Rezzoaglio meno 0.3, temperatura decisamente più bassa meno 1.6 a cabanni di Rezzoaglio, a Parazzuolo 1.4 sotto lo zero, quindi temperature che al suolo, nella valle più alta appunto della nostra Levante, cioè la Val d'Avito, hanno avuto quindi queste caratteristiche questa notte molto molto fredda, mentre invece in quota, per esempio alle casermette del Penna, quindi a 1.400 metri sul livello del mare, la temperatura non è scesa sotto i due gradi e mezzo sopra lo zero. Nelle altre parti dell'entroterra, siamo in Valle Sturla con 9.2 a Casali di Borzo Nasca, 9.3 a Belpiano e 11.3 a Ponturi in Val Graveglia. Val Fontana Buona 7.9 gradi, 5.4 a Pezzo Nasca, 10.7 a Pian dei Preti e 11.3 a Villa Oneto. Siamo nelle medie stagionali, ma anche forse un puntino sotto le medie stagionali, perché per esempio i 5.3 gradi di Pezzo Nasca non sono molti, è abbastanza freddo. La notte quindi si caratterizza ancora per questo calo delle temperature, evidentemente il suolo non è ancora ben riscaldato. Per quanto riguarda invece la costa, abbiamo avuto una minima di 11.5 a Santa Margherita, di 9.4 gradi sul lungomare di Rapallo, a Chiavari sul porto 11.1, 8.8 al porto di Lavagna, c'è sempre questa differenza anche di qualche grado tra le due località, e poi ancora 11.1 a Sestri Levante in Piazza del Comune e 13.1 la minima a Moneglia. Nel Golfo Paradiso si parte con gli 11.7 di Ruta di Camogli per arrivare a Bogliasco con 13.8, a Genova Nervi 12.8, a Marassi 10.2, nel Ponente Genovese per esempio a Praa 12.2, 10.3 a Savona, ad Imperia 11.8 a Ventimiglia 12.1 e alla Spezia 10.6. Come abbiamo detto nel corso della giornata, le temperature, grazie al soleggiamento, grazie a questi bei, belli scorci di cielo sereno che ci sta mostrando Paolo Solari, appunto da gran parte della nostra regione, avremo delle temperature che saliranno fino a oltre i 20 gradi. Chiudiamo questa parentesi legata al meteo e andiamo invece a parlarvi di politica internazionale, perché oggi la notizia che domina tutte le prime pagine dei quotidiani, ma non solo in Italia, nel mondo, quasi sicuramente in tutto il mondo, è proprio la telefonata che c'è stata tra Xi Jinping, presidente della Cina, e Zelensky, presidente dell'Ucraina. Telefonata con Zelensky, Xi prova la mediazione e invece Mattarella e Meloni incontrano alcuni esponenti del governo di Kiev e dicono Ucraina presso nell'Unione Europea, Italia pronta a ricostruire. Kiev ringrazia. Il leader cinese ribadisce invece il principio della difesa della sovranità territoriale, che forse è proprio il suo, diciamo anche un po' il prezzo che mette un po' per questa mediazione, cioè il fatto che comunque questa sovranità territoriale la vuole esprimere anche nei confronti di Taiwan, tanto per essere chiari, l'unica via è il dialogo, vabbè, e poi c'è l'editoriale a firma di Maurizio Ombrosini, resistenza, accoglienza e valori di ieri e oggi, il futuro da fare. Poi lasciamo un attimo questa notizia che la daremo da poco, un nuovo patto di stabilità, Unione Europea più morbida sul deficit, fitto, rassicura sui fondi del PNRR, li spenderemo tutti, pure quelli per gli asili, e poi di asili parleremo nel nostro territorio, perché in realtà un asilo che doveva essere costruito con il PNRR non sarà costruito, stiamo parlando di Cogorno, e poi naufragio in Libia, strette critiche di Francia e Olanda, morti 55 migranti. Billings, 70 anni controcorrente, è appunto il titolo principale del supplemento di avvenire, dell'inserto Evita. E poi questa fotografia di Papa Francesco vicino a molte donne, Francesco dà il diritto di voto a donne e laici. Andiamo a vedere nelle pagine interne di avvenire per capire qualcosa di più. Non sarà più solo il sinodo dei Vescovi, tra l'altro è previsto a breve, cioè nel mese di ottobre, quindi mancano davvero pochi mesi, e sarà il primo grande sinodo, grande assemblea generale, in cui non ci saranno soltanto i Vescovi di tutto il mondo, ma ci saranno tra i votanti anche 70 non Vescovi, di cui almeno il 50% sarà di sesso femminile, quindi 35 votanti saranno donne. L'invito a valorizzare la presenza giovanile, perché poi questi nomi, questi 70 membri non Vescovi, verranno scelti dal Papa, da un elenco di 140 persone individuate e non elette dalle sette riunioni internazionali di episcopati. Quindi insomma saranno nomi che verranno fuori da una scrematura anche molto molto importante, quindi saranno nomi di un certo tipo, chiaramente nel loro contesto nazionale, che appunto esprimeranno valori che appunto saranno giudicati importanti dal Papa. I cambiamenti sono stati illustrati da Grecce e Olerich, sono cambiamenti davvero importanti, c'è anche il commento dell'ex presidente dell'azione cattolica italiana Paola Bignardi, che dice non è una rivoluzione, però c'è un segnale di una nuova mentalità che sembra affacciarsi nella vita ecclesiale. Molte donne, in particolare i giovani, si allontano dalla Chiesa perché la sentono non disponibile a integrarle pienamente nel suo cammino. Quindi insomma le donne diventeranno anche sempre più protagoniste della vita della Chiesa, lo sono sempre state, ma a livello decisionale, a livello anche un po' diciamo così di orientamento. Sulla stessa pagina appunto in cui si parla di queste novità c'è anche un articolo che arriva proprio dalla nostra diocesi e parla di un evento che c'è stato qualche settimana fa appunto nel vicariato di Sestri Levante un incontro importante con il vescovo di Modena e vicepresidente della CEI, Castellucci, Erio Castellucci, attenti al clericalismo, è il virus del potere per il potere. Intervenendo sulla sinodalità, l'arcivescovo e vicepresidente della CEI ha sottolineato che se cammini con altri più che classificarli, cioè più che mettere in una classifica o in uno schema, ti preoccuperai di arrivare insieme alla meta. E appunto c'è questo articolo in cui c'è anche proprio una intervista a Castellucci ma anche al nostro vescovo Monsignor De Vasini. Ricordiamo che questo incontro è stato organizzato dall'Istituto Scienze Religiose della Diocesi di Chiavari a Sestri Levante nelle settimane scorse, lo avevamo anche trasmesso e lo potrete trovare anche sulle nostre pagine di YouTube e appunto l'articolo di oggi pubblicato sulla pagina nazionale di Avvenire è a cura di Don Luca Sardella. Adesso andiamo invece alla prima pagina del secolo XIX che dice, parla soprattutto del delitto del 25 aprile, la confessione del camallo, ho ucciso per la mia donna, delitto di Genova, Giribaldi, lei frequentava di palo per avere la droga, l'amica non pensavo arrivasse a tanto, i piani oscuri dalla pistola al terzo uomo, adesso si indaga chiaramente per capire anche se questa confessione dice proprio tutto 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 su questo episodio, su questo omicidio. I colleghi del portuale rovinato dal crack Filippo non era più lui e la vittima invece, Manuel, dopo il carcere e l'addio a Casa Pound è una vita alla deriva. Ancora dalla prima pagina del secolo, patto di stabilità, la richiesta dell'Unione Europea, piano di risparmi da 60 miliardi, pressione per la ratifica del MES, questo fondo salva stati, PNRR fitto al Parlamento, avanti con i progetti, corsa per gli asili nido, vabbè poi ne parleremo. Le nostre idee per cambiare il volto dei camogli, la prima volta che i sindaci, i candidati, i sindaci di camogli si confrontano e lo hanno fatto nella sala consigliare per, diciamo così, i giornalisti del secolo XIX e oggi c'è il reportage di questo incontro proprio sulle pagine interne del secolo. Anelli, Castagna e Maggioni, le nostre idee per camogli, i tre candidati si sono confrontati in questo forum appunto del secolo XIX, dieci domande sul futuro della città per capire programmi e proposte con cui guardare al futuro. Camogli, lo ricordiamo, è uno dei due comuni del nostro territorio del Levante che andrà a votazione il 14 e 15 di maggio, quindi ormai mancano 20 giorni, non di più, quindi 20 giorni si andrà a votare e appunto vediamo alcune parole dei tre candidati a sindaci che vediamo in questa foto. Naturalmente sono parole che il secolo XIX ha riassunto con tre battute, diciamo scelte tra le tante cose che hanno detto i candidati. Giovanni Anelli dice il parco dovrà essere nazionale ma senza alcuna estensione rispetto agli attuali confini, quindi Camogli, Portofino e Santa, quindi fa un po' suo la posizione del centrodestra e anche un po' forse della regione Liguria. Maurizio Castagna invece dice il futuro del parco dovrà essere nazionale, potrà partire con i sette comuni che si sono detti disponibili a farne parte, quindi una posizione appunto di centrosinistra visto che Castagna è un po' il candidato in continuazione con l'attuale amministrazione comunale guidata da Olivari. E poi ancora quello che è già stato sindaco di Camogli, Giuseppe Pippo Maggioni, parco terrestre e area marina protetta devono avere unica governance sul modello delle cinque terre. Quindi un'altra posizione, una terza posizione che già si è sentita anche nei mesi scorsi, cioè di unire i due parchi, cioè quello terrestre e quello diciamo acquatico marino. Comunque poi coloro che sono interessati a capire poi i contenuti e le varie differenze tra le posizioni dei candidati a sindaci potranno andarsi a leggere tutto quanto l'intervista, il lungo colloquio con botte e risposta appunto tra i giornalisti del secolo e in particolare il responsabile della redazione chiavarese Roberto Pettinaroli e Edoardo Meoli appunto con i candidati a sindaco. Allora adesso andiamo a dirvi perché ho fatto questa battuta mentre parlavamo del PNRR e del fatto che proprio qualcuno abbia portato ad esempio gli asili, qua lo vediamo sulla prima pagina del secolo. PNRR, fitto al Parlamento, avanti con i progetti, corsa per gli asili nido. Però c'è qualcosa che non va invece nel nostro territorio, lo vediamo dalla pagina online del nostro sito www.teleradiopace.com, per la sovrintendenza il nuovo asilo di Cogorno intralcerebbe la vista della Basilica dei Fieschi e quindi per questo potrebbe non essere realizzato perché non arriva questo ok della sovrintendenza che è abbastanza importante. E allora andiamo a vedere il perché e il per come nel servizio realizzato ieri dalla nostra redazione. Un nuovo edificio scolastico nella zona del campo sportivo San Martino, due piani di altezza e spazi per 150 bambini e bambine tra selo nido, scuola materna e centro famiglia. Una costruzione è necessaria secondo il comune di Cogorno perché l'offerta di posti scolastici è al momento insufficiente. Una costruzione troppo voluminosa secondo la sovrintendenza ai beni culturali che ha dato recentemente un padere negativo. La nuova scuola andrebbe parzialmente a limitare la vista sulla Basilica dei Fieschi, zona sottoposta a vincolo paesistico. Il comune ha risposto con alcune integrazioni al progetto e attende una risposta anche perché i tempi delle opere finanziate dal PNRR hanno scadenze precise e da rispettare. Nello specifico si andrebbe a costruire un marciapiede che passa nel prospetto nord della struttura, libero da intraccia alla visuale. Ricordiamo che il progetto è finanziato dal cosiddetto Piano Asili del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza che eroga fondi ai comuni per la costruzione di asili nido e scuole dell'infanzia. In tutta Italia parliamo di 4,6 miliardi per 1857 nuovi asili nido e 333 scuole materne. Il problema più frequente per i comuni italiani che hanno aderito al bando è quello delle scadenze, difficile da rispettare per le modifiche portate ai progetti in corso d'opera per l'aumento dei costi delle materie prime che rischiano di non far rispettare la prossima scadenza del 31 maggio, entro cui devono essere affidati i lavori. Questo non è il caso di Cogorno, la scuola è finanziata con 3 milioni dal PNRR, 140 mila euro dal Fondo Statale per le Offerte Differibili e circa 350 mila euro di fondi comunali. Il compito di occuparsi della gara è stato affidato all'Agenzia Governativa Invitalia che entro giugno comunicherà l'azienda giudicataria. Resta però da sciogliere il nodo legato al parere negativo della soprintendenza. Il Comune attende il sapere se le integrazioni presentate siano sufficienti. Allora tornando a parlare di cronaca amministrativa e di elezioni, abbiamo detto che il 14 e 15 di maggio andranno a votare i camogliesi per la loro amministrazione comunale, quindi sindaco e consiglio comunale e nello stesso giorno andranno a votare anche a Sestri Levante e oggi dal secolo XIX leggiamo alcune notizie riguardanti la campagna elettorale. Solinas presenta Sestri per tutti, una delle liste che lo sostiene. Passione e amore per la città, capolista il consigliere regionale Muzio di Forza Italia, orgoglioso della scelta che rivendico. Ricordo che Forza Italia non ha appoggiato ufficialmente questa lista. In squadra donne e uomini pronti a lavorare con serietà dal mare alle frazioni. E poi ancora invece nel fronte opposto, quello del centrosinistra, Ellie Schlein, la neosegretaria del partito, domani sarà a Sestri Levante proprio per sostenere il candidato a sindaco del centrosinistra, Mazzucco. La segretaria nazionale sarà alle 18.30 in Piazza Bo a Sestri Levante domani. Il candidato sindaco, è importante la sua presenza a supporto del nostro progetto. E poi ancora invece a Sestri Levante arriva un membro del consiglio regionale, anzi della giunta del consiglio regionale, ovvero l'assessora allo sport Ferro, Simona Ferro, per il candidato Pistacchi che è il candidato ufficiale del centrodestra, quello appoggiato da tutti i partiti che fanno parte della maggioranza in regione. L'assessora Ferro in visita a impianti e società sportive. E oggi a Palazzo Fasce, confronto sul turismo con il consorzio Sestri in, l'appuntamento alle ore 15. E ancora invece a Sestri Levante e Montepagano, cinque alberi alla memoria. Gli alunni appunto della scuola, sono delle primarie di San Bartolomeo e Quarta di Riva Trigoso, hanno scoperto il sentiero della memoria sul percorso di Montepagano, progetto legato alle iniziative per celebrare il 25 aprile. Cambiamo argomento, operaio ferito proprio il giorno del 25 aprile, giorno che sarebbe dovuto essere festivo per tutti gli operai, invece lui era al lavoro insieme a dei suoi colleghi, sequestrato il cantiere. Dov'è successo? Perché alcune cose non tornano, quindi devono essere fatte delle indagini, accertamenti sui lavori. L'incidente in via Baisi a Rapallo, l'uomo che è caduto da un'altezza ancora non precisata, 31 anni, originario dell'Albania, è ancora ricoverato al San Martino di Genova. A 12 schianto a Sesti Levante, a Nervi gli agenti arrestano un latitante, alcune notizie appunto di cronache che arrivano dalle strade sempre del 25 di aprile e poi purtroppo una notizia luttuosa che ha colpito il territorio, la donna di 58 anni deceduta in un'escursione sul monte di Nascio, sul ponte di Nascio nel comune di Nei, la settimana scorsa, Andreina Levaggi, morta sul ponte, manca ancora l'autopsia, il corpo ritrovato da un ciclista, però le ragioni della morte della improvvisa della donna originaria di Carasco devono ancora essere, diciamo così, scoperte, quindi sarà necessario l'esame autoptico. Andiamo avanti, Silvia Garibaldi aderisce a Italia Viva, il movimento partito di Renzi, il perché della mia scelta. L'ex candidata sindaca lavorerò alla creazione di un nuovo partito riformista, anche a livello collocale si avverte l'esigenza di una stabilità ideale e non di simbolo. E poi ancora Economic Forum Giannini, l'anteprima a Palazzo Rocca, si apre domani alle 10 appunto con il saluto delle autorità, la prima giornata dell'appuntamento intitolato al banchiere gentiluomo originario della nostra zona. Oggi a Chiavari però alle 18 ci sarà una anteprima, appunto e tra gli ospiti invece domani c'è anche la ministra del turismo Sant'Anche, visto che in questo forum Giannini si parlerà soprattutto di turismo. Una notizia che riguarda il Gal, il presidente Nicchia si dimette dal Gal, ora l'Expo è a rischio. Ferrara, assessore a Chiavari, può entrare nel CDA, nel Consiglio di Amministrazione del Gal, che ricordiamo è l'ente che organizza tra le altre cose anche l'Expo Fontana Buona. Ma adesso ci colleghiamo con la redazione, vedo prontissimo Andrea Capitani, buongiorno Andrea. Ciao Marco, buongiorno a tutti, restiamo a parlare di lavoro, di economia, lo facciamo però grazie alla presenza del nostro Vescovo perché sta continuando a incontrare le diverse realtà del territorio per la celebrazione della Pasqua, proprio nei luoghi di lavoro e tra le realtà incontrate in questi giorni dal Vescovo c'è stata la Ilex di San Pier di Canne a Chiavari, l'azienda che produce alzacristalli elettrici, dove Monsignor De Vasini ha celebrato la Santa Messa insieme ai lavoratori. È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione delle produzioni e delle commesse che vengono portate avanti nell'azienda, altre stanno per partire a breve, ma ancora una volta il Vescovo ha sottolineato l'importanza del lavoro per dare dignità alla persona. Abbiamo intervistato al termine l'amministratore delegato della Ilex Italia, sentiamo la sua intervista poi la linea torna allo studio. La dignità è credo la parola chiave che ho utilizzato e che condivido, allo stesso tempo ha voluto porgere una riflessione e una preghiera alle persone che per motivi diversi in questo momento si trovano in difficoltà per carenze di lavoro o perché l'hanno perso. Ha anche sottolineato la necessità di ritrovare all'interno delle aziende un giusto equilibrio con la famiglia, con gli aspetti privati e trovare anche un buon ambiente lavorativo, quindi l'azienda deve farsi carico anche di questo. Da questo punto di vista l'Ilex sta facendo qualcosa? Ci stiamo muovendo da un po' di tempo, l'ultimo in ordine cronologico è il cosiddetto progetto postura. Noi lo scorso anno abbiamo fatto uno screening di tutti quanti i dipendenti, quest'anno abbiamo ripreso l'argomento, da lì siamo partiti e abbiamo proposto ai nostri dipendenti delle visite posturali apposta, specifiche, siamo partiti oggi e quindi credo che sia una buona notizia. Dal punto di vista della produzione il mercato si sta lentamente riprendendo, ci sono ancora qualche difficoltà ma le produzioni in azienda sono partendo, le commesse sono partite? Sì, rispetto allo scorso anno la situazione è migliore, rimane, permane il tema dei microchip la cui carenza sta in ogni caso influenzando il mercato sia noi come costruttori di componenti che i costruttori d'auto direttamente, quindi questo sta indubbiamente creando delle turbolenze all'interno del mercato al punto che se lei oggi va a un concisionario e chiede una vettura nuova deve attendere diversi mesi, a volte anche più di un anno, proprio perché i costruttori d'auto fanno fatica a stare dietro la domanda. Come se partite quelle di cui abbiamo parlato altre volte, Grecale e Tonale ormai sono partite da diversi mesi e adesso siamo in fase di avvio del cosiddetto B-Pilot e quindi queste sono le primissime sfide con le quali ci stiamo confrontando e poi le nuove commesse che sono state acquisite nei mesi scorsi troveranno un impatto nella produzione nei prossimi mesi bar anni. Allora andiamo ancora dal secolo XIX ringraziando Andrea Capitani per questo servizio. Melanoma Day, prenotazione oggi e domani, il prossimo 6 maggio da prenotare però oggi e domani ci saranno queste visite dalle 11 alle 13. Vabbè, comunque sono un'iniziativa organizzata dall'associazione La Pulce nell'Orecchio in collaborazione con Cif Chiavari, Officina Imparo Evado e Farmacia Solari. C'è da prenotare tramite un numero di WhatsApp 392-1560-551. Andiamo invece a parlare chiaramente ancora di altri argomenti sempre dal secolo XIX di oggi e ritorniamo a Cavogli però per una notizia importante. La spiaggia di Ponente è fruibile anche dai bagnanti disabili. Avviati i lavori per migliorare l'accesso al mare, accordo con Lega Navale Italiana e Club Vela, appunto gli interventi per l'accesso di persone con disabilità di Ponente sono previsti nel protocollo triennale sottoscritto dal Comune, Lega Navale e Club Vela e appunto avrà un totale di costi di 18 mila euro con 15 mila euro di contributo ottenuto dalla regione Liguria. Addio a Alessandro Perini, il dolore di Camogli, siamo sconvolti, volontario storico della croce verde camogliese è morto durante un breve periodo di vacanza in Francia per un malore improvviso. E poi ancora se il fascismo va di moda, Ghiglione e Isop presentano il loro libro, l'estremismo di destra e giovani domani a Lavagna alle ore 16 all'auditorium Campodonico e poi ancora creativamente in libertà con gli artigiani in piazza a Lavagna, il mercatino dedicato agli artigiani si è tenuto già con successo in alcuni giorni del mese e tornerà il prossimo primo di maggio, appunto una vetrina privilegiata e appunto ci sarà la possibilità di vederla anche il 2 di giugno, il 2 di giugno per il suo ultimo appuntamento primaverile. No, non c'è scritto il primo maggio, il primo maggio, ah no, questo sabato, quindi questo sabato è il, non è il primo maggio, ma è il 29 aprile. Va bene, andiamo poi a parlarvi anche di questo intervento, di questa testimonianza con Daniel Zaccaro, con gli studenti del Liceti, incontro appunto a Liceti, sì, ero un bullo ma ho trovato nei libri le parole per capirmi, quindi insomma ha riconosciuto che a volte i bulli sono così per un problema proprio di mancanza di coscienza, di personalità. Va bene, adesso ancora dal secolo XIX, restando a Rapallo, Vara, le guardie comunali, Rapallo controlleranno i cani e i rifiuti, saranno cinque nelle zone più critiche, corsi ad occhio per formarle e potranno anche elevare sanzioni multe, quindi oltre ai vigili e agli ausiliari del traffico bisognerà stare attenti anche a queste guardie ambientali che soprattutto i padroni di cani devono temere perché se non fanno tutto correttamente vorranno essere sanzionati giustamente perché i regolamenti ci sono e vanno rispettati così anche per il conferimento dei rifiuti. Verde percorso vita al Parco Fontanine, nuova inaugurazione nel pomeriggio di domani, un pomeriggio intenso e ricco di novità nell'area verde di Via Rizzo, siamo nella zona di Sant'Anna a Rapallo, ci sarà anche una casetta per il book crossing, cioè per prestarsi i libri alle 16.30 l'appuntamento domani al Parco delle Fontanine. A proposito di appuntamenti, andiamo a sfogliare insieme l'agenda di Telepace per quelli di oggi. Appuntamenti in agenda per giovedì 27 aprile. È aperto alle visite il Museo del Risorgimento nelle sale della Società Economica Chiavarese. Telefonando al numero 0185 36 32 75 si potrà prenotare la visita condotta da Giulietta Vaio Ricci, l'orario dalle 8.30 alle 18.00. Saperi della storia. Nei giardini della Torre del Borgo a Lavagna dalle 17.30 alle 20.00 verranno proposte storie e memorie di collina raccontate dal vivo. Interverrà Giorgio Gettoviarengo, modera gli interventi Antonella Riccardi. Al termine ci sarà un aperitivo. Anteprima del forum su Amadeo Peter Giannini. Alle 18.00 all'interno delle sale di Palazzo Rocca a Chiavari la conferenza da Amadeo Peter Giannini ad Adriano Olivetti, Banca e Impresa a Misura Duomo. Modera l'incontro Federico Morgante, direttore del Tg di TV 2000. Nell'ambito della scuola di formazione teologica alle 19.15 sulla piattaforma Zoom, Patricio Denavasquez, direttore dell'Istituto San D'Amato di Madrid, parlerà su com'è nata la teologia, la chiesa del secondo secolo. Le Nozze di Figaro, lo spettacolo diretto da Antonio Pappano, sarà proiettato alle 19.45 al Cinema Sibori di Salita Santa Caterina a Genova. Gli spettatori assisteranno all'opera di Mozart, corredata da filmati esclusivi dietro le quinte, interviste e approfondimenti. Alle 21.00 sulla piattaforma Zoom della scuola di formazione teologica della Diocesi di Chiavari si darà un incontro con Don Matteo Prodi, docente di teologia morale e sociale sul tema guardare al lavoro con gli occhi di Papa Francesco. E allora riassumiamo un po' quanto detto all'inizio del programma per la questione meteorologica, cioè siamo al centro di una fase tranquilla, stabile, con clima molto mite, però siamo proprio al centro, quindi ieri e oggi sono state le due giornate più belle perché da domani questa situazione si sporca con l'arrivo di nuvole. Già nel corso di oggi potremo vedere e con il passare delle ore, velature via via sempre più spesse, ma totale assenza di fenomeni. Oggi venti a regime di brezza, mare poco mosso e temperature che nel pomeriggio possono salire fino ai 21-22 gradi. Per domani, venerdì 28 di aprile, invece i tecnici della Limet prevedono un inizio giornata con cielo già sporco di velature e poi nuvoloso nel corso della giornata nel centro della regione, soprattutto appunto Genova e Savona e le limitrofe zone. Più o i più tardi, nella tarda mattinata, il tempo sarà un po' variabile altrove, con alternanza di nuvole dischiarite, ma sempre senza fenomeni, senza piogge. Venti moderati da sud su tutta la regione, mare poco mosso e temperature in calo nei valori massimi. Giornata nuvolosa anche quella prevista per sabato 29 aprile, ma lì ci fermiamo perché poi appunto questa nuvolosità dovrebbe essere anche un po' l'anticipo di un peggioramento che dovrebbe arrivare sull'Italia tra domenica e lunedì. Purtroppo due giornate festive, anche importanti per un ennesimo ponte primaverile, che questa volta però non sarà molto baciato dal sole e dal bel tempo, come invece è capitato per Pasqua e per il 25 aprile. Quindi ve lo diremo domani, domani saremo decisamente più precisi e potremo sbilanciarci un po' di più. Per adesso vi diciamo che ci sono delle temperature, delle previsioni molto brutte, delle previsioni così così, quindi insomma vedremo se avranno la meglio gli uni o gli altri, i falchi o le colombe. Va bene, noi intanto salutiamo Paolo Solari che ha curato la regia e la parte tecnica per questa seconda edizione del Tg Rassegna Stampa, Andrea Capitani che abbiamo visto in redazione, tutti voi che ci avete seguito e che seguirete anche i nostri programmi per tutta la giornata. Vi ricordiamo il Tg delle ore 12.45, noi ci rivediamo domattina ultima giornata per questa ultima settimana di aprile per quanto riguarda il Tg Rassegna Stampa delle 7.30 e 8.10 perché come sapete il sabato va in onda alle 8.30. Da parte di Marco Rivello l'augurio di un'ottima giornata a tutti. Grazie a tutti.